Allora intanto ringrazio i giornali perché mi stanno aggiornando sul perché sono stato denunciato perché a me non me l'ha ancora detto nessuno però leggendo i giornali scopro perché sto qua si è incassato sì perché lui è un po' come le fidanzatine delle superiori che si incassano con te e se gli chiedi perché ti dicono devi capirlo da solo ecco ringrazio per la solidarietà che tutti mi state mandando rigorosamente in privato perché si sa mai insomma e sì perché a parte i politici che lo fanno perché devono fare opposizione e gianca tutti gli altri dicono beh Gio se questo ci mette un attimo a denunciare due trecento persone ecco non chiedetemi di cosa ho bisogno mi piacerebbe solo che ci fosse un po' meno viltà in giro ecco perché non capisco perché altri pubblicamente non si chiedano se non sia una forma di tracotanza fare trecento denunce ai cittadini naturalmente coi soldi dei cittadini stessi caso avessero mai tirato fuori una lira di tasca propria sta gente qua tutto coi schei dei tasse basta mandare i schei a roma ladrona teniamoci qua nel venato così cui schei dei vostre tasse denunciamo voi perché amici veneti io credo che il problema di zaia siate proprio voi il problema di luca zaia è che tutti gli leccano il culo è circondato da gente che gli lecca il culo giornalisti politici persino gli avversari che gli dice che è bellissimo ma lui dentro di sé sospetta la verità e cioè che è brutto forte zaia mi dispiace ritienila se vuoi un'opinione personale ma io ti guardo e ti trovo brutto forte è il problema di quel tipo di potere lì che se non lo sei ti fa diventare brutto forte e questa cosa fa incazzare a perché un'altra caratteristica di quel potere tronfio e gradasso è che davanti a stampa sono tutti soridenti felici con la faccia da andrà tutto bene si fanno i selfie ma poi si chiudono nei loro uffici e la faccia si trasforma diventano cattivi cosa posso fare per danneggiare i miei nemici che poi sei il comunismo organizzato mondiale come se me permettino sti qua di criticarmi a mi che rappresento mi allora consulta il suo specchio magico che si chiama gazzettino e dice specchio specchio dei miei brame chi sei che sei chi sei che sei il più beo qua più beo del reame della serenissima gloriosa repubblica che tanto che ha navigato eccetera eccetera e il gazzettino risponde te si ti te si è il più beo del mondo manina bella fatta penela e questo gli basta per un po si fa due foto con i giornali si consulta col suo movimento politico che sarebbe ufficio stampa sì perché è il dibattito democratico è una rottura dei coglioni a in consiglio regionale su 20 volte ce ne si va due perché per il resto è veramente un impedimento e va nella sua tv privata telezaia dove dice quello che gli pare a lui nessuno lì dentro osa anche solo pensare che possa sbagliare una parola e dice signori signori buonasera bentornati a consueto appuntamento con mi stasera che avevamo di ospiti e ciò che versi sei che fa no signor zar è quella che fa il linguaggio per non udenti ah non udenti ah stai attenta stai attenta ma non sai che fa dei versi che dice altre robe di quelle che dico no sei la mia comunista c'è ma subito un esperto di versi che controlla se in sui versi il corrisponde ai miei versi e scattano tutti sui attenti perché è talmente abituato che tutti gli leccano il culo che se uno gli dice che ha la cravatta storta lo denuncia e la sera prima di andare a letto recita la sua preghierina a se stesso si mette la retina sulla testa e consulta il suo gazzettino magico specchio specchio dei miei brame chi sei che sei il più beo del reame a serenissimo che tanto che ha navigato eccetera eccetera e lo specchio risponde o luca lucchino tu sei un bel bambino ma ce n'è un altro ancora più bellino spetta che consulto il nome o caso si chiama balasso balasso porca della troia come fasso a essere più brutto e basso non può essere più bello di me è grasso no non è grasso è un torello da monta una chiappamona della madonna pensa che scansi è invidioso e poi grassessa fa belezza porca della vacca lurida no non posso toerare che questo sia più bello di me non posso mi non posso toerare questo allora si traveste da vecchia che viene facile no tu prova a immaginare zaia con fasso in testa che pare veramente la strega delle fiabe allora prende la panda delle poste suona il campanello balasso suona buongiorno è a postina si sono a postina ora qua ora qua che bel pomo saia balasso magna il pomo senti che buono sto pometto magna il pomo che se vuoi un gammagnato tutti quanti magna e si sta coltivato di fianco autostrada serenissima magna il pometto che se buono balasso senti che gusto che ha no grazie non ho voglia dei pomi sono le 11.30 adesso mi faccio un doppio amarone come aperitivo e mi vedo con una ex di scansi vabbè in alternativa ecco te la convocazione poi al tribunale di venezia mona e ricordate che è più beo so mi monta in macchina e dice agli altri quattro nella panda chi sei che sei più beo a te si ti tutti quanti su attenti a te si be i si mo e va via contento è così per un altro giorno può dimenticare di essere brutto forte è il risultato del dibattito di queste centinaia di cittadini denunciati per averlo offeso sui social che mi domando perché sono anticomunististi qua non c'è niente di più simile al potere sovietico manca solo le purghe ma in veneto i cittadini se caga addosso da soli non serve nessuna purga o intendiamoci io sono d'accordo sul principio non si offende la gente ma il risultato è che i suoi lecaculo sguinzagliati nei web gente che ha condiviso i protocolli de sion contro gli ebrei che ha dichiarato che i cinesi magnano i topi vivi che ha condiviso puttanate come il piano calergi che se muore un immigrato in mare scrive buon appetito pesci adesso sono diventati tutti maestrini del bon ton e tutti dicono no ci vuoi correttezza quando si parla in pubblico di internet che uno scrive su facebook insomma quelle robe che ti sentivo a donna zang ha cantato faccetta nera in radio che simpatica ma si ma chi se ne ciava tanto tutto fa brodo se zaia dice che i cinesi mangiano i topi vivi gli basta chiedere scusa alla comunità cinese se uno dice che lui è falso va davanti al giudice e deve anche immaginarsi perché si è incazzato comunque zaia sta a preoccuparte tanto se mi va male a me pago io se ti va male a te paga la regione che figata che è il potere aaaah